è abbastanza mexicano eh? dal Montepetro... come al solito dov'essere congiugato dalla traduzione del dottor Ciri io sono un po' preoccupato di avere tanto produrio all'espasso e il pueblo se despierta e nel bario Santa Cruz il popolo si infeglia nel quartiere di Santa Cruz è un topo nella poesia mexicana e guarda Senigallia con i tuoi occhietti di passerottino che mi manca solo una canzone da cantare e domanda dove sono i nomadi? dove sono i miei nomadi? dove sono i miei amati vagabondi? ai vagabondi! disculpe signore dove sono i vagabondi? come dove sono i vagabondi? come dove stanno? e nel foro annonario alla Venteistos come dove sono? nel foro annonario a Senigallia alle 22 di sera però ricorda sempre amico di meno è nel borsiglio non lo tengo però ricorda sempre amico soldi in tasca non ne ho solo 10 euro per comprare solo 10 euro per comprare applausi un abbraccio per l'antanio e alle mani sono generale di libera